Adesso è una portata, una portata Io direi 40, io direi 40 Io rimando ancora 40 Ma io penso di venire un po' di più Se vuoi mettere la camera, se vuoi mettere la camera Adesso lì, a Giorgio Ma che dici, pensate, in quava camera Ragio, ma accorgi, ad buon... Io ce l'ho detto subito Adesso mi la faccio a vedere Domandato a Mone se c'è un... Che era lì? Che era lì? Che era lì? Che era lì? Che era un altro? Eh, vada c'è molto bene che forse non è che è stato fatto Ma non è più bene? Che c'è anche una sua prima putina che è arrivata dal lì No, perchè tu Monella tu mente se mi è pensato Che ha fatto le stesse Che ha detto che... C'è 90% che la faceva, ce l'ho detto Cosa? Non ce l'ho ovviamente messo in... Anche la.... Io quello... Ma perché va bene? E' fatta spesa per piacere, tempo perso, parlate per me, tempo perso, 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 troppo tardi, la margherita viene lei sicura, niente, guardate se volete guardare per la lotteria, ma la margherita viene perché me l'ha detta meglio, il biglietto viene sicuro, non è venuta oggi, c'è la domanda e viene a vedere, sei ore, sei ore, sei ore, la lotteria abbiamo deciso, no? non so, però la mia bimbi è città con la mia... Otto, Antonio, è un pochino, non lo so, io no, speriamo è l'alchelo, non vogliamo ancora la... vediamo un altro video, non è fuori, tutti i più di ingeori, perché non mi è totale, non lo so, io non c'è qui, non c'è qui, non c'è qui, non c'è qui, ma c'è qui? Mettuno, ora... Mettuno... Mettuno... Quanto sono i totali? Mettuno di 280... Mettiamo 40... Se si abbracano... Non parla l'italiano... Ma che sono i miei... Ma che sono i miei... Non ne basta, non ne basta, non ne basta... Ma sono i miei... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ma però te vedi che... 2, 3, 4, 6... 6, 3, 4, 6... 8, 4, 9... E domenica... Antonio è 8, perché li ha pagati... Domenica... Domenica... Trovate i 6 soci? No... 9... E loro... No, neanche loro cosa ci facciamo... No, quindi... Se mica lo vedi i miei biglietti giusti... Capisci... Voi... 100 biglietti a testa... Ho 100... Quelli che vogliono... Ritorno... Tu vuoi portare i tuoi soldi... Perché... Bisogna fare... E dai biglietti giusti... Gherai i biglietti giusti... Gherai... 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 No... Noi facciamo 5 i gruppi... Gherai... 100 biglietti a tutto il gruppo... E quando tornare? Prendeteci... 100 biglietti... Pagate... Nessuno... Sa nessuno che paga i biglietti... Niente? Niente? No... No... Pagare... 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 quando volete 6-7 e 4-3 il biglietto è davvero lì e invece è meglio raccontare i miei soldi ma me prima da tagliare i miei soldi me ho raccontato e non mi sto il minuto e poi con la valdonna mi chiedevo meglio mi chiedevo, mi chiedevo davanti, davanti non fermate il minuto un po' fra l'articcato 4 attore dei toni e valoppo il 60 m, per valoppo i biglietti che lo vedi un po' che si può cercare no, no, no te le valoppo te le valoppo i biglietti che lo vedi è avanzato no, attenzione un minuto può si sbagliare che te lo se proprio te lo sbagliare allora, è giusto allora, è quello che dico io se te lo sbagliare il sindaco non ha confermato ma io ho detto di stare dito di non dire non mi ha fatto più da questi soldi ma non mi ha sbagliato non fanno me lo sbagliato non se lo sbagliare non ce lo ha fatto dammi la mano I giorni che ha fatto 5 anni. I giorni che hanno preso. Senza di corretà. E i biglietti se li ha avuto 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 avuto. Padre Russo sono 4. Cavalieri, Mussi e Mogli sono 6. Padre su 27. Comandatore degli 9. Grazie a tutti.